Grazie a tutti. Siamo qui per ricordare che la moda vive, purtroppo, e propone pellicce in tutto il mondo, proprio la moda italiana. Le pellicce si vendono sempre meno, ma il problema è che ci sono ormai gli inserti e i risvolti di giacconi, di costumi, di intimo per l'inverno e l'estate, che sono realizzati con animali uccisi, soprattutto cani e gatti, dalla Cina, sono realizzati da tutti gli stilisti. La verità, la bellissima è solo tutta l'estate. Di questo modo è intanguinata. Noi non vi facciamo entrare, perché noi siamo qui per ricordare il dono.